Alla scoperta dell'uomo Un programma ispirato al best seller di Alvon Hubbard, Dianetics, la forza del pensiero sul corpo Conduce Pierre Paderni Una civiltà senza pazzia, senza criminali e senza guerra Ove le persone capaci possano prosperare e gli onesti possano avere dei diritti Ove l'uomo sia libero di innalzarsi a più grandi altezze Un programma ispirato al best seller di Alvon Hubbard Salve! Allora un po' di musica, un po' di arte, un po' di vita Ma soprattutto nel caso nostro un po' di maggior comprensione della vita stessa Quindi stiamo parlando in questo programma del libro di Alvon Hubbard Dianetics, la forza del pensiero sul corpo È un libro che ha una sua storia molto grande Sarebbe bello poter dedicare un'intera trasmissione alle ricerche che sono state fatte prima della pubblicazione di questo libro Perché è lì dove diciamo dal 1932 al 1948-50 Dove è stato fatto un grande quantità di lavoro, di test, di applicazione pratica di questi principi Fino a veramente a vedere che effettivamente tutto questo ha dato corpo ad una scienza Perché Dianetics è una scienza Cioè cos'è una scienza? Una scienza è un insieme di principi pratici che hanno un riscontro verificabile e addirittura prevedibile Nel campo della sperimentazione o nel campo dell'applicazione Quindi Dianetics per esempio ha una prevedibilità in quello che fa Che ogni persona che usa Dianetics per esempio Vedete quella scala delle emozioni che ci sono là Anche se lui nella sua vita per qualunque fattore diciamo sta vivendo una vita che è un po' impaurito mediamente Oppure è piuttosto risentito generalmente o soffre anche a livello di dolore Con Dianetics una persona attraverso l'applicazione delle procedure invariabilmente sale di tono Cioè vuol dire che riacquista maggiore sopravvivenza, vitalità, maggiore potenzialità Perché appunto Dianetics ha a che vedere con ciò che il pensiero fa al corpo Quindi se una persona pensa più chiaramente, si sente più libero, ha una maggiore comprensione di se stesso Ovviamente si sente anche un po' su agio E quando voi vi sentite bene il corpo non vi accorgete neanche di averlo Sì o no? Cioè quando una persona sta bene è normale che il corpo stia bene Quando una persona ha anche solo un po' di problemi di pensieri negativi Sembra che anche il corpo non sta bene, si trascina Ma sto male qui, sto male là Poi non c'è nulla in effetti, capite? Quindi Dianetics ha a che fare con il fatto di recuperare questi fattori di sopravvivenza Non solo a livello individuale, quindi egoistico Ma a livello individuale in funzione della propria famiglia E in funzione della società, cioè dell'ambito che una persona ricopre In quello che lui fa a livello sociale Per cui è una scienza diremmo umanistica Cioè si indirizza all'uomo come centro della vita, come centro dell'universo Voi avete visto nel logo di questa trasmissione C'è questa celebre immagine di Leonardo Che rappresenta l'uomo come punto focale Il punto centrale Questo è stato il momento in cui l'umanesimo italiano e il rinascimento Hanno avuto quell'esplosione che ha creato ancora oggi Crea un effetto, capite? Nel momento in cui l'uomo viene rimesso al suo posto Per il valore che ha, indipendentemente dai problemi che ha I suoi valori vengono fatti emergere L'uomo ha una forza fantastica di influenzare la vita Quindi questo libro lo trovate in libreria ovviamente E' un libro che ha avuto già fino adesso più di 20 milioni di coppie vendute Tradotto in 55 lingue E' presente praticamente in tutto il mondo Perché è stato pubblicato in più di 130 nazioni Pensate che è stato tradotto perfino in Swahili In Hindi, in cinese Quindi è stato molto diffuso come libro E la ragione di questa sua diffusione è molto semplice Perché ogni persona alla base tende o vuole una maggiore comprensione di se stesso e della vita E Mr. Hubbard ha scoperto E questo libro lo tratta molto profondamente questo argomento Che cosa inibisce o ferma o fa fallire il desiderio di capire e di sopravvivere nelle persone E scrive in questo capitolo La mente reattiva è l'unica fonte dell'aberrazione Quindi l'aberrazione è l'equivalente dell'andare fuori strada Viene dal latino ab errare Vuol dire andare fuori ai binari fondamentalmente Quindi la mente reattiva è l'unica fonte dell'aberrazione Si può provare ed è stato ripetutamente provato Che non ce n'è un'altra Poiché quando il deposito delle esperienze dolorose del passato viene liberato Tutti i sintomi indesiderati svaniscono E l'uomo comincia a operare secondo il suo modello ottimale Quindi cos'è che c'è nel passato che può interferire L'abbiamo visto già nelle passate trasmissioni Ovviamente per chi si è messo all'ascolto in questo caso E' l'opportunità di leggersi il libro perché non possiamo ogni volta ripetere tutti questi principi Ovviamente Però quello che abbiamo visto è che le esperienze traumatiche di dolore fisico Quindi di reale dolore fisico come la nascita O esperienze prenatali o comunque vari tipi di traumi che una persona può avere Queste determinano poi il suo modo di sopravvivere Dal momento che la mente può rimettere lì Quindi questa mente reattiva può ricreare, rimettere in azione queste esperienze dolorose del passato Benissimo E di questo libro c'è anche ovviamente stata un'edizione italiana nel 51 Questa è l'edizione di Gerardo Casini Che è stata tradotta e pubblicata nel 1951 Quindi pensate italiani Sono stati tra i primi a tradurre questo libro Appunto Dianetics E il tipo di soggetto che noi trattiamo in questa serie di trasmissioni è tolto da un corso formale Che viene dato in tutte le fondazioni di Dianetics Che si intitola l'anatomia della mente umana Quindi noi qui ovviamente per questioni di tempo e di condizione non trattiamo l'argomento così approfonditamente Però voi potete leggere il libro E c'è comunque un corso formale che si intitola anatomia della mente umana Il programma che noi stiamo tenendo ovviamente dedicato al libro È un programma che è stato voluto e creato da New Era Publication Che è l'editore delle opere di Aaron Abarth Stampa, traduce e pubblica e distribuisce le opere di Aaron Abarth in Italia Per cui questi libri li trovate facilmente in qualunque libreria Benissimo Oggi abbiamo alcune interviste che siamo andati a raccogliere con le persone E abbiamo fatto una domanda direi quasi aristotelica Per usare un termine Una domanda comunque che forse una persona spesso non si chiede Perché noi delle cose spesso sentiamo gli effetti ma non sappiamo la natura Capite? Diciamo il dolore ma sì è qualcosa che mi fa male Ma che cos'è esattamente? Come funziona? Ma si può capirlo Non è una roba relegata nei libri Si può capirlo Le domande che abbiamo fatto questa volta sono Che cos'è un problema? E che cos'è una confusione? Sentiamo quindi cosa hanno risposto le persone Secondo lei che cos'è un problema? Oddio Cos'è un problema? Non so, una cosa che sembrava difficile risolvere probabilmente Come potrebbe funzionare un problema? In che senso come potrebbe funzionare? Come lo risolvo? Sì, come potrebbe l'anatomia di un problema Ma francamente per le 10 di mattina mi sembra una domanda molto complicata Un problema sì è una cosa che sembra difficile a prima vista Che magari non si incontra quotidianamente Una cosa che non capita sempre Che richiede impegno per risolverlo? È un problema la vita di oggi che è troppo stressante Tutto questo Come lo definirebbe un problema? Un po' il lavoro, un po' la famiglia Un po' i problemi in generale che ci sono in giro Causano questi problemi Secondo me che cos'è un problema? Già per dire a fine mese quando devi pagare Non so, le cambiali, gli affetti, cose, già è un problema Un problema è un qualcosa generato dall'uomo Per cui va risolto per forza con l'intelligenza dell'uomo Un problema è qualcosa che ti fa star male Che però si può risolvere Secondo lei che cos'è una confusione? Un insieme di persone che fanno un gran caos Cioè un insieme di persone dove non è invivibile Dove non puoi muoverti, dove non puoi camminare Una cosa da evitare secondo me proprio Non saprei cosa dire Proprio poche regole, pochi principi Magari si fa confusione Una confusione è un qualche cosa senza regole E quindi è una brutta cosa insomma Come funziona? La confusione? La confusione vi è quando ciascuno fa quello che vuole Senza una precisa regola insomma Non una regola fair insomma Delle regole anche blande però ci devono essere La confusione secondo me è un insieme di suoni che danno fastidio Tanta gente, tanti suoni, troppi rumori messi insieme Oppure? Oppure può essere una confusione mentale A livello proprio di situazione che uno sta vivendo E può essere a livello più interno mentale Secondo lei che cos'è una confusione? Una bella domanda, sono confuso in questo momento La confusione è una cosa non ordinata Quindi disordinata Abbiamo visto quindi Quelli che sono i punti di vista delle persone Ognuno giustamente ha il punto di vista Meno male che ce l'ha E ha le proprie opinioni Questo è bello nell'uomo Perché ognuno può avere il suo pensiero E le sue opinioni A volte magari non è molto chiaro Non è molto corretto Non importa Comunque quello è il suo punto di certezza O il suo punto di esperienza Ed è importante È comunque sempre un punto di partenza Se noi riuscissimo a ascoltare con interesse Quello che le persone hanno da dire Probabilmente impareremo molto E potremmo magari anche aiutarci di più Vedete Ora, a proposito di aiutarsi O di fare qualcosa di utile C'è questo kit Che è composto da questi elementi Che adesso vi mostro C'è questo piccolo corso Che si chiama Corso per miglioramento personale Da fare a domicilio È un insieme, diciamo Di piccoli lavori Che una persona può fare Dove fa degli esercizi Fa delle pratiche Che sono basati Su questo libro Dianetics Quindi una persona può procurarsi Questo kit Lo può ordinare Trova anche in libreria E si legge il libro Comunque prima di iniziare il libro Per aiutarsi Può vedere anche questo video Un DVD Dove è possibile Vedere ancora più cose Su come funziona la mente umana E anche una dimostrazione pratica Di come viene applicata Dianetics nella vita Quindi uno vede subito Cosa serve anche di più Dal punto di vista Vabbè Stiamo imparando a capire Cosa ha di più la mente Ma adesso Cosa potrei fare? Bene Qui lo vedi Cominci a vedere Come puoi applicare questo Già nella tua famiglia O per quanto ti riguarda E averne già un beneficio Capite? E insieme a questo C'è anche alcune conferenze Di Aaron Hubbard Con la trascrizione Dove potete vedere Già in fase di ricerca Quindi all'inizio Come la tecnica veniva già applicata Di base Non è cambiata È ancora quella Dal 1950 Non è cambiata una virgola I principi operativi E applicativi Sono ancora quelli Ovviamente Sono diventati più vasti I campi di applicazione Cioè usando questa tecnologia Si è arrivati a applicarlo Per esempio Nel mondo del lavoro Quindi abbiamo visto questo libro Problemi del lavoro Eccolo qua Che anche questo pure Lo trovate in libreria Allora Dianetics applicata Nel campo del lavoro È applicata a un livello Ancora superiore Più professionale È contenuta in ben 15 volumi Vedete questi volumi verdi Questa è la tecnica di management Tecnica moderna di management Sono 15 volumi Che coprono tutte le funzioni Di qualunque attività E ovviamente questo è stato Uno sviluppo pratico Della tecnica di dianetica Nel campo specifico Del management Del lavoro Della conduzione Delle aziende Per cui Vedete Questa tecnica Ha avuto un'applicazione Su vari campi Un altro campo Molto importante Di cui parleremo Un po' di più Nelle prossime puntate È quello Delle relazioni umane Vedete questo libro Si intitola Scienza della sopravvivenza Ebbene Questo libro Spiega in modo Completo Tutta quella Che è la gamma Delle emozioni umane Qui noi ne vediamo Solo alcune Quelle principali Sono un po' di più Effettivamente Però Vedete Una persona Lo capite già A livello intuitivo Una persona Che deve lavorare Lavora meglio Se nella sua vita Predomina Una emozione Di entusiasmo O un'emozione Di paura E la risposta È già logica O diremo Comunica meglio E si sta meglio Con una persona Che è piuttosto Entusiasta Nella vita O con una persona Che piange Tutto il giorno E anche qui La risposta Mi sembra Abbastanza logica Quindi Questo l'ho messo Sul semplice Ovviamente Vedete Questo è un libro Molto grosso Ed è un po' Il manuale Di tutte le persone Che sono degli specialisti Nelle relazioni pubbliche E chi è uno specialista Delle relazioni pubbliche Lo dovrebbe essere Ogni persona Perché noi viviamo Ogni giorno In relazione con altri Poi ovviamente Ha delle applicazioni Di un livello Molto altro Che consistono anche Nel come poi comunicare A un gruppo di persone A determinati tipi Di punti di vista A vari tipi di realtà Quindi è una tecnica Che ovviamente Ha un campo di applicazione Molto vasto Come state vedendo E torniamo quindi Un po' Al nostro problema Quindi la domanda è Cos'è un problema Che abbiamo visto In questa intervista Beh Cos'è un problema Sentiamo un po' Cosa dice Il mister Abbar Qui in questo Piccolo estratto Qui dice Lo scopo fondamentale Della mente umana Quando opera Consiste nel porre E nel risolvere I problemi Che essa osserva In relazione Alla sopravvivenza Lungo Qualsiasi Dinamica La dinamica Abbiamo visto Sono le spinte Alla sopravvivenza Quindi se stessi È una dinamica La famiglia Un'altra dinamica Il gruppo Un'altra dinamica La razza umana Un'altra dinamica Un problema è risolto Quando adesso Si è risposto Sì o no A un problema Del tipo Dovrei andare Bisogna rispondere Sì o no Se si vuole Che la mente Lo archivi Come conclusione Se permane Sotto forma Di forse Il problema Staziona nel computer E influenza La soluzione Immediatamente Successiva Perché C'è qualcosa Che interferisce Capite Avete mai conosciuto Qualcuno Che aveva un sacco Di difficoltà A prendere Delle decisioni Ricordate Una volta Precisa Bene A un certo punto Nel passato Di quella persona C'è stato Un problema A cui non è stato Risposto Sì o No Ma solo Forse Un problema Di carattere Molto grave Si presenta Quando si chiede È stata colpa mia Quando la risposta Finisce su un forse Il computer Tende a incepparsi La risposta Tra l'altro È Che niente È colpa Di chi che sia Sono due Le ragioni Per cui I problemi Non si risolvono La prima È la mancanza Di dati La seconda È un problema Irrisolto Precedente Che riguardava Lo stesso soggetto Quindi Abbiamo già chiarito Cos'è un problema Di base Ma guardiamolo Da un punto di vista Grafico Adesso Cioè cos'è un problema Sono fondamentalmente Due forze In opposizione Quindi Avremo una forza Che si oppone A un'altra E vedete Devono essere Della stessa grandezza Perché se questa Diciamo che è sì È più forte Di questa Che è no Ovviamente Prevale Il sì Quindi un problema È una intenzione È un'intenzione Contraria È una decisione Una decisione Contraria Può essere Un'emozione Con un'emozione Contraria Può essere Uno sforzo Con uno sforzo Contrario Può essere Un pensiero Con un pensiero Contrario Cioè Di base Un problema È dato Da questa Precisa Meccanica Sono due forze In opposizione E questo Non è il problema Questa è una situazione Il problema È dato Dal forze Cioè Qui in mezzo C'è qualcuno Che non capisce più Cosa gli sta succedendo Questa persona È nel problema Perché non sta Decidendo sì Oppure no E fin tanto Che lui sta Nel forze È come Amletto di Shakespeare Essere O non essere Questo è il problema Non è vero Che essere O non essere È un problema Il problema è Decidere Di essere Ed esserlo Quindi uscire Dal forze Il problema È il forze Forse sono O forse Non sono È il problema Cioè Quando uno sta Nella Insicurezza Che il problema Diventa forte Se una persona dice Non sono capace Beh ha deciso Che non è capace Fine Ne avrà le conseguenze Ma intanto Lui questo Non ce l'ha più Come problema Capite Una persona dice Voglio andare a casa E però dice No Ma però Volei andare No Dice vado a casa Nel momento in cui Ha deciso Quel tipo di problema Comincia a scomparire Il prossimo problema Sarà Come faccio Parlare a mia moglie Beh quello è un'altra cosa Perché il problema Di prima era Vado a casa Adesso è come parlo A mia moglie Quindi dobbiamo stare Attenti a questo concetto Per cui un problema È dato sempre Da due forze Di uguale intensità Che sono in opposizione E la risultante Di questa condizione Di non equilibrio O di equilibrio Troppo fisso Se volete È data dal forse Quindi questo forse Crea nella persona Una condizione Una condizione Di forte dispersione Tant'è vero Che un problema Genera poi Un altro tipo Di situazione E questa Ve la leggo Da questo dizionario Che è il dizionario Del management Moderno Che quindi va insieme A questi volumi Sulla tecnica Di management È un dizionario Che contiene Come vedete Un sacco di definizioni Quindi ovviamente Se parliamo Di un soggetto Preciso O sappiamo Di cosa stiamo parlando Abbiamo un linguaggio Che ci capiamo Ultimamente è inutile Per cui Tra l'altro Management Penso che tutti voi Sapete cosa vuol dire No? Ora Giusto così Per inciso Per chiarire un po' di parole Management viene dal Fondamentalmente È una parola inglese Però viene dal latino Viene da Manus agere Vuol dire Fare andare le mani Io vedo un sacco di manager Che fanno andare la bocca Quindi Un manager è uno Che è capace Di ottenere Dei risultati Non di parlare Non di chiacchierare Un manager Manus agere Fare andare le mani Riuscire a avere Un risultato Ok? Quindi Qui Quando un problema Non si risolve Abbiamo una situazione Ed è questa La vedete in questa figurina Ovviamente il testo è in inglese Ma io ve lo tradurrò al momento Questa figurina Rappresenta Una Confusione È una Confusione E adesso vi do La definizione E la leggiamo Di cos'è una Confusione Quindi cos'è una Confusione È Un flusso Che non ha un modello Cosa vuol dire Un flusso È come se tu butti l'acqua E va un po' dappertutto Vuoi bagnare i fiori E si bagna il computer Si bagna il pianoforte E si bagna anche il tuo gatto Ne va un po' dappertutto No? È un flusso Che non è ordinato Capite? E Anche Le particelle Quando c'è una confusione Sbattono l'una contro l'altra E rimangono In un movimento Nell'area Rimangono in giro Capite? E Quindi Attenti Quindi Non vi è un prodotto Dal momento Che per avere un prodotto Ci vuole un flusso Che esca verso Che esca fuori Quindi cos'è che voi vedete Spesso Nel lavoro O lo vedete anche Nella società Vedete un sacco di Parlare Di discussioni Di contrapposizioni Di discussioni Pesantissime Praticamente Un foro Diciamo Neanche Da avvocati Un foro Da cagnolini Arrabbiati Diciamolo Con queste parole Questi cagnolini Che abbaiano No? Ma alla fine Di tutto questo movimento Dove sono i risultati? Quella è per definizione Confusione Quello che vedete È il prodotto Della confusione Di coloro Che stanno mettendolo In piedi Con la storia La confusione È data Quando le particelle Non portano Un risultato Che si tratti Di lavoro Che si tratti Di affetti Che si tratti Di educazione Che si tratti Di denaro E nella vita C'è un flusso Dare E avere Creare un prodotto Una persona Che è confuso Ha un problema Prima che non è risolto Vi faccio un esempio Semplice Diciamo che una persona Ha preso in mano Questo libro Ha letto Le prime due pagine E adesso è lì Proprio che Più confuso Di prima E io mi chiedo Come può Un pezzo di carta Con delle parole scritte Confondere una persona In fin dei conti Siamo andati a scuola Abbiamo imparato a leggere Conosciamo Come si legge Sì o no Le parole o meno Ebbene Qui è stata fatta Una scoperta Molto importante Da questo punto di vista Ovviamente potrei parlarvi Di confusione Di problemi Nel campo del lavoro Ma preferisco Parlarlo a livello Di conoscenza Parlarne in questi termini E cos'è che è stato scoperto Ancora una volta Che la mente umana Dovendo porre Dei problemi E risolverli Fa un'operazione Molto semplice L'operazione Dobbiamo capirla Definitivamente Questa cosa E che qui c'è un analizzatore Che analizza i dati E qui abbiamo una memoria Ogni qualvolta Una persona Diciamo Raccoglie dei dati In questo caso Sta leggendo un libro Dove ci sono delle parole Se lui prende questo dato Che è una parola E lo mette qui E non riesce A comprenderlo Quindi a farlo suo Ovviamente questo dato Non può essere messo Come conclusione E rimane Un dato Intorno al quale C'è dell'incoscienza Cos'è l'incoscienza? È la non conoscenza Incoscienza Mancanza di conoscenza Molto semplice Non conoscenza Quindi Se una persona Sta leggendo un libro Becca Una parola Che non ha capito Adesso comincia A dormire Perché questo è uno Dei fenomeni E cosa è successo? Che lei adesso Ha un problema Dice Ma io Volevo studiare Ma quella roba qui Ma non ce la faccio Ma puoi studiare È troppo difficile No Però dovrei studiare Ma non voglio studiare Sì Devo studiare No Non voglio studiare Questi conflitti No Come mai C'è questa catena Che va Confusione Problema Poi ulteriore confusione Un altro problema Quindi diventa qualcosa Che continua Capite? Nella tecnica di Dianetics Per esempio Una persona impara A studiare Due cose Dove una persona Fa due balzi Immediati Lo studio E la comunicazione Perché sono i due Fattori vitali Di conoscenza Attraverso lo studio Raccolgo dati Attraverso la comunicazione Li do E li ricevo E li scambio Capite? Quindi Ovviamente La conoscenza della mente Come state capendo Non è una conoscenza teorica Ha già un'applicazione Immediata Nel campo dello studio Nel campo del lavoro Cioè se voi avete Un collaboratore Che ha un problema E non l'ha risolto Voi vedrete Che lui adesso È un po' in confusione Voi dovete chiedergli Che tipo di problema Ha avuto E parlarne E probabilmente Magari si trovi Come ha avuto inizio Capite? Qui adesso stiamo già entrando Nel cominciare A vedere di applicare No? Però voglio che voi Vedete che c'è una strada Che va dalla conoscenza Immediatamente All'applicazione Quando voi Sapete fare una cosa bene Non riuscite a fare A meno di farla Se voi sapeste Aiutare bene Una persona Lo fate subito Perché vi piace Capite? È normale Anch'io lo faccio È normale Nell'uomo Che lui voglia Scambiare Le cose buone Che ha Ebbene Con Dianetics Questo è ciò Che una persona Aumenta In termini di abilità E di qualità Quindi Dianetics È una grande avventura È l'avventura Alla scoperta Di te stesso È l'avventura Verso La scoperta Veramente Dalla vera natura Dell'uomo E della tua vera natura Perciò C'è una cosa Importante a fare Entra Nell'avventura E scopri Chi tu sei Veramente Salve Di te stesso Dal momento Che per avere un prodotto Ci vuole un flusso Che esca verso Che esca fuori Quindi cos'è che voi vedete Spesso Nel lavoro O lo vedete anche Nella società Vedete un sacco Di Parlare Di discussioni Di contrapposizioni Di discussioni Pesantissime Praticamente Un foro Diciamo Neanche Da avvocati Un foro Da cagnolini Arrabbiati Diciamolo Con queste parole Questi cagnolini Che abbaiano Ma alla fine Di tutto questo movimento Dove sono i risultati? Quella è Per definizione Confusione Quello che vedete È il prodotto Della confusione Di coloro Che stanno mettendolo In piedi Con la storia La confusione È data Quando le particelle Non portano Un risultato Che si tratti Di lavoro Che si tratti Di affetti Che si tratti Di educazione Che si tratti Di denaro Nella vita C'è un flusso Dare E avere Creare un prodotto E quindi avere uno scambio Quando c'è confusione Questo non avviene È chiaro? Ora Dal punto di vista Della mente Questo per noi È molto importante Perché Grazie al fatto Che è stato studiata E compresa esattamente Come funziona la mente Sappiamo sempre Che quando c'è una confusione In una persona C'è un problema Prima non risolto Capite? Se tu hai Una persona Che è confusa Ha un problema Prima che non è risolto Vi faccio un esempio Semplice Diciamo che una persona Ha preso in mano Questo libro Ha letto Le prime due pagine E adesso è lì Proprio che Più confuso di prima E io mi chiedo Come può Un pezzo di carta Con delle parole scritte Confondere una persona In fin dei conti Siamo andati a scuola Abbiamo imparato a leggere Conosciamo come si legge Sì o no Le parole o meno Ebbene Qui è stata fatta Una scoperta Molto importante Da questo punto di vista Ovviamente potrei parlarvi Di confusione Di problemi Nel campo del lavoro Ma preferisco parlarlo A livello di conoscenza Parlarne in questi termini E cos'è che è stato scoperto? Ancora una volta Che la mente umana Dovendo porre Dei problemi E risolverli Fa un'operazione Molto semplice L'operazione Dobbiamo capirla Definitivamente Questa cosa E che qui c'è un analizzatore Che analizza i dati E qui abbiamo una memoria Ogni qualvolta Una persona Diciamo Raccoglie dei dati In questo caso Sta leggendo un libro Dove ci sono delle parole Se lui prende questo dato Che è una parola E lo mette qui E non riesce A comprenderlo Quindi a farlo suo Ovviamente questo dato Non può essere messo Come conclusione E rimane Un dato Intorno al quale C'è dell'incoscienza Cos'è l'incoscienza? È la non conoscenza Incoscienza Mancanza Di conoscenza Molto semplice Non conoscenza Quindi Se una persona Sta leggendo un libro Becca Una parola Che non ha capito Adesso comincia a dormire Perché questo è uno Dei fenomeni E cosa è successo? Che lei adesso Ha un problema Dice ma io Volevo studiare Ma quella roba qui Ma non ce la faccio Ma puoi studiare È troppo difficile No, però dovrei studiare Ma non voglio studiare Sì, devo studiare No, non voglio studiare Questi conflitti No, come mai C'è questa catena Che va Confusione Problema Poi ulteriore confusione Un altro problema Quindi diventa qualcosa Che continua Capite? Nella tecnica Di Dianetics Per esempio Una persona impara A studiare Due cose Dove una persona Fa due balzi Immediati Lo studio E la comunicazione Perché sono i due Fattori vitali Di conoscenza Attraverso lo studio Raccolgo dati Attraverso la comunicazione Li do E li ricevo E li scambio Capite? Quindi Ovviamente La conoscenza Della mente Come state capendo Non è una conoscenza teorica Ha già un'applicazione Immediata Nel campo dello studio Nel campo del lavoro Cioè se voi avete Un collaboratore Che ha un problema E non l'ha risolto Voi vedrete Che lui adesso È un po' in confusione Voi dovete chiedergli Che tipo di problema Ha avuto E parlarne E probabilmente Magari si trovi Come ha avuto inizio Capite? Qui adesso stiamo già entrando Nel cominciare A vedere Di applicare No? Però voglio che voi Vedete che c'è una strada Che va dalla conoscenza Immediatamente All'applicazione Quando voi Sapete fare una cosa bene Non riuscite a fare A meno di farla Se voi sapeste Aiutare bene una persona Lo fate subito Perché vi piace Capite? È normale Anch'io lo faccio È normale nell'uomo Che lui voglia Scambiare Le cose buone che ha Ebbene Con Dianetics Questo è ciò Che una persona Aumenta In termini di abilità E di qualità Quindi Dianetics È una grande avventura È l'avventura Alla scoperta Di te stesso È l'avventura Verso La scoperta Veramente Dalla vera natura Dell'uomo E della tua vera natura Perciò C'è una cosa Importante a fare Entra Nell'avventura E scopri Chi tu sei Veramente Salve E' la tua vera natura 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 E' la tua vera natura